Ciao, bentornati sul canale! Oggi ho una location diversa, mi sono seduta sul divano e niente, così volevo semplicemente introdurvi un piccolo tutorial su come far venire i pomelli di ottone lucidi. Io e il mio compagno abitiamo qua da poco, insomma, e la cucina che abbiamo c'era già da tanti anni, quindi avevo la necessità di far ritornare un pochino splendenti i nostri pomelli della cucina. Parlando con una signora mi spiegò il suo metodo, che io adesso vi faccio vedere nel video, l'ho applicato e devo dire che sono rimasta molto soddisfatta del risultato. Io vi lascio al tutorial, spero che il video vi possa interessare, lasciatemi un commento, un pollice in su, se vi va iscrivetevi, se può tornare utile che magari a qualcuno fa comodo condividete questo video e vi aspetto al mio prossimo video sul canale. Ciao, vi lascio al tutorial! Bene, questo è come si presenta il mio pomello. Oggi devo pulire tutta la cucina per bene, quindi ne approfitto per mettere a segno questo trucchetto. Questo è il risultato finale che ho fatto alla prova su un pomello. Ora vediamo come ho fatto. Prendiamo una ciotolina che ci serve per mettere un cucchiaio, un cucchiaio e mezzo di sale fino. Dopodiché dobbiamo aggiungerci dell'aceto di vino bianco. Io ne ho messo un pochino troppo e vado a mischiarlo con il mio panno di microfibra che utilizzerò per pulire il pomello. Vedete, è troppo liquido il risultato, quindi cosa vado a fare? Siccome non rimane il sale, che è quello che appunto ci serve per fare, diciamo così, chiamiamolo così, lo scrub sul pomello, e vado ad aggiungerci ulteriore sale fino, in modo che appunto diventi una crema e così vado, ecco questa è la consistenza giusta, vado sul pomello a praticare lo scrub e a pulirlo. Nel frattempo comunque ci prepariamo sempre prima un po' di giornale sotto perché, insomma, cade il sale. Io devo andare a pulire la cucina e quindi ho approfittato di utilizzare questo metodo di pulire prima i pomelli e poi andrò a pulire la mia cucina. Uno straccio, questo qua che ho sotto, è umidificato pulito, che poi andremo appunto a togliere i residui di sale e a farli cadere, insomma, nel panno pulito e di dargli una sciacquata. E un altro asciutto poi, che vi farò vedere, appunto, mettiamo un pochino di olio d'oliva per andarlo a nutrire e a dargli un po' di lucentezza. Dovete fare un pochino di pressione, cioè dovete andare bene bene a togliere tutti i residui che ha il vostro pomello. Ora, con il panno pulito, umidificato, andiamo a togliere i residui. Quindi non preoccupatevi, ci fate proprio questo mestiere, appunto, prima di andare a pulire tutta la cucina. Vedete la differenza tra questo che l'ho fatto e quello no? Lo andiamo ad asciugare, ecco, magari non è che stiamo a fare un lavoro preciso perché tanto comunque poi andremo a pulire tutta la cucina, quindi non è necessario, anche se ci sono gli aloni, poi comunque la cucina va pulita. E ora, per andare a dargli un pochino di lucentezza, utilizziamo un po' di olio d'oliva. Io l'ho messo su questo panno sempre che, insomma, ho asciugato. Ne metto una piccola quantità sul panno e vado a massaggiare il pomello per ridargli la lucentezza. È una cosa che faccio anche con la cucina, per quando ho finito, do una passata di olio d'oliva sul mobile per nutrirlo e per renderlo lucido. Et voilà, questo è il risultato. Da questo a questo. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!